Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente Don Natale che ha illustrato il programma per il personaggio, ringrazio il Centro Culturale di Cesano Domenico e Lucchi, anche perché è stato in media disposizione per questa magnifica chiesa che è anche l'incarne all'acustica. I ringraziamenti vanno al Dottor Francesco Muzella e al Dottoressa Petrice con le rispettive di famiglie perché da 38 anni a questa parte hanno dimostrato una grande sensibilità nel sostenersi per l'organizzazione del Festival pianistico. Ringrazio Luisa Guelini-Rocco, la giornalista, Radio Antenna 5 e la base popolare di Crema per il territorio e tutti coloro che collaborano per la porta riuscita, la tenizia riuscita di questo evento musicale, il maestro Pagliari che è il nostro tecnico e per l'assistente del pianoforte. Questa sera sconteremo il giorno di artista Alessio Ercole, un talento del pianoforte già fermato in campo nazionale e internazionale che eseguirà brani di grande impegno tecnico e interpretativo a quale obbligiamo l'antica dire concettistica. Grazie e buon ascolto a tutti. Per dubbio i cellulari. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti